benvenuti oggi siamo con il professor david del carlo docente di latino e materie letterarie presso l'iceo statale lorenzini di pescia formatore ed esperto di didattica al conto mediale benvenuto professore grazie grazie professor del carlo la didattica digitale ormai una realtà scuola in questi anni anche a causa dell'emergenza pandemica abbiamo visto una forte incremento di strumenti e piattaforme digitali ci sono nuovi scenari in questo ambito possano essere rappresentati dall'utilizzo di strumenti innovativi quali la realtà aumentata e virtuale allora adesso le chiedo visto che ci sono queste queste nuove possibilità lei come riesce a conciliare l'utilizzo delle tecnologie digitali penso in particolare appunto alla realtà aumentata e virtuale con le materie letterari e addirittura con il latino allora io devo dire che l'uso di strumenti di tecnologie digitali in fondo prescinde dalle discipline insegnate nel senso che si tratta di grandi contenitori che gli studenti possono riempire con i contenuti con gli approfondimenti con le ricerche svolte su qualsiasi argomento e quindi spetta semmai al docente scegliere di volta in volta quali parti del curriculum si prestino meglio a una diciamo reinterpretazione in chiave multimediale per esempio ecco lo scorso anno i miei studenti di terza scientifico hanno realizzato un ebook a fumetti con i personaggi lego sull'anfitrione di plauto inserendo nel lavoro anche dei brevi video in stop motion quindi è chiaro che dietro a un artefatto digitale di questo tipo ci sono intanto una lettura molto approfondita del testo un lavoro di analisi un lavoro di sintesi e poi soprattutto un approccio transmediale che riesce ad attualizzare un testo di oltre 2000 anni fa e per quanto riguarda nello specifico la realtà aumentata e virtuale dallo scorso anno io ho introdotto nella classe in cui insegno italiano le recensioni al cubo che uniscono al lavoro di comprensione del testo che è quello che facciamo comunemente ecco uno strumento sorprendente qual è la realtà aumentata con un approccio alla letteratura che insieme è rigoroso ma anche ludico ecco giusto per precisare facciamo la differenza appunto che cos'è la realtà aumentata e la realtà virtuale magari non tutti i nostri ascoltatori lettori sono sanno qual è la differenza principale sì effettivamente sono due paradigmi diversi no anche dal punto di vista giornalistico spesso vengono confusi allora la realtà aumentata sia nel momento in cui noi usiamo un device mobile vale a dire uno smartphone o un tablet inquadriamo un elemento reale quale può essere per esempio un'immagine e a quel punto ne scaturisce che so un video un audio un'altra immagine d'accordo quindi noi non perdiamo il contatto con la realtà che ci circonda semplicemente abbiamo una visione della realtà appunto aumentata aumentata da questi contenuti invece la realtà virtuale è un altro paradigma significa immergersi completamente in uno scenario virtuale a 360 gradi quindi in tre dimensioni e essere lì all'interno di questo spazio e per far questo sono necessari dei visori per la realtà virtuale grazie professor Carlo per la precisione allora un'altra domanda spesso ecco visto che parliamo di digitale spesso l'approccio al digitale rappresenta un ostacolo per molti docenti allora richiedo qual è la formazione necessaria per un insegnante per riuscire a gestire questi strumenti al meglio compresi quelli appunto di realtà aumentata e virtuale allora innanzitutto io direi che è necessario liberarsi di alcuni pregiudizi e forse anche di alcuni timori perché gli strumenti digitali sono appunto soltanto degli strumenti che ci consentono di motivare di coinvolgere gli studenti e non è necessario neanche diventare esperti di app o web tool perché basta conoscerne le funzioni di base dopodiché sarà sufficiente illustrarle brevemente agli studenti e poi loro faranno il resto perché i ragazzi che ci troviamo di fronte hanno una spiccata predisposizione ad apprendere anche per prove ed errori il funzionamento di questi strumenti e io non nascondo che il più delle volte i miei studenti in brevissimo tempo diventano molto più bravi di me e riescono anche a sorprendermi con le loro soluzioni e quindi ecco io mi sento di rassicurare i colleghi perché noi dobbiamo considerare la tecnologia nient'altro che un'altra freccia al nostro arco per poter svolgere la nostra professione con un approccio più accattivante che nulla toglie al rigore e al dovuto approfondimento delle nostre discipline e per quanto riguarda in particolare la formazione ci sono moltissime iniziative e moltissime risorse in rete e per fare un esempio basta dare un'occhiata al portale scuola futura del ministero e li scegliere fra numerosi percorsi che sono del tutto gratuiti e tenuti da formatori di altissimo livello ecco lei ci diceva appunto che con questi strumenti appunto la realtà aumentata e virtuale gli studenti non sono solo soggetti passivi ma possono essere attori attivi nella progettazione e realizzazione di progetti didattici ecco ci spiega meglio come funziona come avviene questo meccanismo allora io direi innanzitutto che la centralità dello studente nel percorso di apprendimento sicuramente è alla base di qualsiasi approccio che si voglia definire innovativo e io cerco di realizzarla a vari livelli intanto nella fase di progettazione dell'attività si può ci si può giovare naturalmente del contributo di idee degli studenti una specie di chiamiamolo brainstorming collettivo poi nella fase di realizzazione nella quale il mio ruolo è quello di tutor di mentore di regista se vogliamo io accolgo sempre molto volentieri suggerimenti dei ragazzi per migliorare l'idea di partenza ecco bisogna essere da questo punto di vista molto molto flessibili ed è proprio durante la realizzazione del compito autentico che all'interno del gruppo di lavoro emergono l'individualità e le risorse personali e con queste ciascuno riesce a contribuire al successo del proprio team di lavoro io direi che è quella che l'unione europea definisce la competenza imprenditoriale e intendendo l'espressione della propria creatività e del pensiero divergente e poi ecco anche nella parte finale dell'attività cioè il momento della restituzione o debriefing ecco ogni studente è di nuovo protagonista perché spetta a lui illustrare al docente e compagni il lavoro svolto professor del calvo lei alterna varie metodologie didattiche appunto ci diceva anche questi in questo modo di operare come l'apprendimento cooperativo la classe che abbiamo volta con l'uso di strumenti innovativi quali visori digitali che permette una dinattica immersiva in pratica quello che viene chiamata una blended education ci vuoi capire come realizza questa attività allora l'importante a mio avviso è la cornice la cornice di ordine pedagogico metodologico in cui noi vogliamo iscrivere l'attività e in altre parole non si può pensare che siano sufficienti gli strumenti per innovare la didattica e fra l'altro in questo periodo le scuole di tutta italia sono chiamate a elaborare la progettazione di aule e di laboratori innovativi per il piano scuola 4.0 e ecco alla base di questa progettazione ci deve essere un'idea ben definita del nostro fare scuola e cioè quali approcci metodologici vogliamo adottare che tipo di didattica vogliamo introdurre qual è il contributo che le nostre discipline possono offrire al cambiamento quindi soltanto dopo aver chiarito questi aspetti a quel punto si potranno progettare degli spazi e immaginare anche gli strumenti più idonei per esempio se vogliamo adottare il cooperative learning o il gixo dovremo avere a disposizione dei banchi modulari per la didattica immersiva serviranno dei visori per la realtà virtuale per la registrazione di podcast e di video ci vorranno una videocamera e dei microfoni professionali e magari aggiungerei io anche un telo verde per sfruttare la tecnica del chroma key e così via e io non dimenticherei ecco di includere in questo pacchetto anche l'abbonamento a delle web app che sono molto utili per la didattica ma che hanno un costo però ecco a mio avviso di questo costo devono farsi carico le scuole non i singoli docenti perché sono al pari di dizionari e di cartine geografiche gli strumenti di lavoro del nuovo millennio ecco appunto siccome diciamo parliamo di innovazione lei è uno che sperimenta molto e lo vogliamo chiudere questa nostra intervista con un'ultima domanda il mondo digitale è un mondo in continua evoluzione appunto e gli offre continui spunti per realizzare nuovi approcci metodologici adesso ci dice quali sono i suoi prossimi obiettivi la prossima sfida è il metaverso in modo particolare immaginarlo come un eduverso cioè uno spazio educativo virtuale che possa ospitare non soltanto le realizzazioni degli studenti come ad esempio mostre ed eventi di vario tipo ma che arrivi a configurarsi come un luogo di incontro fra studenti di qualsiasi parte del mondo ma io direi anche fra docenti ora è vero che siamo soltanto all'inizio però quello che si sta prospettando a me sembra molto molto promettente ecco si parla tanto giusto una battuta si parla tanto di ambienti di apprendimento oggi l'ambiente di apprendimento è anche quello virtuale giusto certamente infatti ecco il metaverso io lo penserei proprio in questi termini quindi non è un luogo dove chiunque possa entrare è un eduverso cioè un luogo in cui appunto gli studenti possono entrare gli studenti possono realizzare no dei prodotti e mostrarli ad altri studenti di tutto il mondo ecco questa è un'idea che va forse anche oltre il metaverso attuale anche se in realtà il metaverso è soltanto all'inizio e quindi è qualcosa di veramente nuovo però ripeto la prospettiva per me è molto molto allettante grazie professor De Carlo che siete stati con noi benissimo grazie a voi grazie di essere di aver assistito a tutto questo grazie a tutti